Ecco che abbiamo trovato e riconosciuto la macchina ottica costruita da Silvano Bonaguri per la stampa diretta positiva su carta fotosensibile da matrice negativa daguerrotipo. Questo è il daguerrotipo che Silvano usava come test che andava montato da questo lato della macchina. Qui c'è il suo appoggio di montaggio che era montato in questo frame. Di qui arriva la luce che lo illumina con illuminazione radente e quindi lo evidenzia come negativo. Quindi funziona come matrice negativa. Probabilmente dentro c'è uno specchio perché il punto in cui si trova il daguerrotipo è disassato rispetto al punto poi di ripresa dove veniva montato lo chassi portacarta. Quindi una volta che viene effettuato il controllo con la messa a fuoco si infila lo chassi perdonatemi il pota bresciano si dà luce e la luce colpisce il daguerrotipo che è una matrice negativa e conseguentemente sulla carta poi qui ci sono tutti i test per cui sulla carta dando un tempo di posa adeguato permette di ottenere il positivo. Qui vediamo il dispositivo con il coperchio alzato che ha un lato aperto che permette di illuminare il daguerrotipo adesso qui si vede positivo perché in pratica è in una camera che lo illumina in maniera ideale ma in realtà il daguerrotipo è una matrice negativa. questo è il dorso di chiusura del daguerrotipo ecco quando indietro così tiri sul legno e prendi il daguerrotipo eccolo lì è il daguerrotipo tiralo fuori eccolo qua